Buona notte volevo accarezzarti un po' perchè forse è un po' di tempo che non lo faccio volevo accarezzare la tua morbida pelle del tuo splendido radioso viso ehi ehi ciao ciao eccomi sono qui sono qui sono tornata sono tornata oggi per accarezzarti il viso con questo magico pennello colorato questo magico pennello che ti accarezzerà il viso e ti farò stare meglio volevo accarezzarti un po' perchè forse è un po' di tempo che non lo faccio volevo accarezzare la tua morbida pelle del tuo splendido radioso viso ci sta che qualche volta io mi dedichi all'accarezzarvi no? bene mi accarezzo uno per una e la volta di farvi sentire coccolati amati soledicando la vostra pelle e il vostro nasino allora mary jane fa anche le coccole non possiamo non dirlo fa anche le coccole mary vi accarezza dolcemente vi abbraccia dolcemente ovviamente vi tiene compagnia ma soprattutto vi fa stare bene la cura per il tuo benessere è un buon asmr come dico sempre la cura per il tuo benessere è un buon asmr come dico sempre la cura per il tuo benessere è un buon asmr e già che mi trovo in questo video volevo darti la buonanotte ripetutamente perché non l'ho mai fatto quindi mentre ti accarezzo ti sussurrerò più 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 e più volte la buonanotte ok? per farti stare meglio per farti dormire meglio per farti dormire meglio allora io mi avvicino un po' di più a te ti sussurro la buonanotte ok? buonanotte buonanotte buona notte 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 good light good light good light good light good night good night good, good, good night 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 good good night Buona notte 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 Buona notte